Preghiamo di assicurarvi che la vostra cintura di sicurezza sia allacciata e che il vostro bagaglio a mano sia fermamente riposto. Vi preghiamo di spegnere ora ogni dispositivo elettronico. Potrete riaccenderli dopo l'atterraggio, non appena i segnali sopra di voi saranno spenti. Vi preghiamo inoltre di riportare lo schienale della vostra poltrona in posizione verticale e di chiudere il vostro tavolino pieghevole. Vi rammentiamo infine di mantenere le cinture allacciate dopo l'atterraggio, fino a quando i segnali sopra di voi saranno spenti. Grazie per aver scelto di volare con Lufthansa Star Alliance. Desideriamo ora congedarci da voi, augurandovi una buona giornata e un buon proseguimento. Arrivederci. Grazie. Grazie. C'è Guglione, guarda, sotto c'è passato, sembrava un roberto, eh? No, è ILS, due ILS paragoni indipendenti, la San Francisco del Cai, è famosissima per quello, infatti le fotocamera, cambia orta, col 210, c'è via appunto quello del mestrino. No, è qui, è qui. No, è qui, è qui, è qui. No, è qui, è qui, è qui, è qui, è qui. No, è qui, è qui, è qui. No, 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 è qui.